Mesi di chiusura, di lamentele, di specchietti rotti, di rallentamenti, di lunghe deviazioni su un'arteria da sempre trafficata. Parliamo di via della Nona dove da tre mesi ormai si può transitare solo a regime ridotto e dove non è più possibile l'uscita diretta su via Mantua, utilizzata solo a senso unico venendo proprio dalla Mantua. La situazione è sempre molto critica, i cubi verranno lasciati e rafforzati nel tratto di fronte alla banca a tempo indeterminato al momento perché lì sotto passa il cavo cerca e la situazione del massello stradale è compromessa. Impossibile pensare ad un ripristino del traffico pesante, da monitorare comunque quello del traffico ordinario. Nel giro di una decina di giorni invece, questa è la buona notizia, ma gelo permettendo, verrà ripristinato il doppio senso di marcia sulla via, evitando così la lunga deviazione da via del macello.